amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati il primo sì al mes arriva con i voti del pd e di italia viva azione in commissione la maggioranza di governo non si presenta mario monti nell'editoriale sul corriere di oggi definisce stucchevole il dibattito sulla ratifica del trattato del meccanismo europeo di stabilità e cito le parole su nell'editoriale è ora di uscire da questo indegno spettacolo che mortifica l'intelligenza degli italiani abbiamo qui oggi ospite come di consente venerdì per parlarne davide rossi ciao davide ciao grazie allora domanda secca la tua intelligenza ti senti mortificato nella tua intelligenza a parlarne come come asserisce monti per una volta devo dire che molti non ha tutti i torti a dire questa cosa perché quello quello che sta avvenendo attorno a questa vicenda del mess proprio l'aria di una cortina fumogena di un gioco delle parti siamo di fronte a una situazione dove appare una spaccatura no sembrerebbe una lettura una prima lettura che il ministro dell'economia giorgetti uomo vicino a draghi fatto il ministro nel suo governo di era considerato diciamo l'uomo di riferimento per draghi in quel governo abbia una posizione più filo europeista più a favore dell'approvazione del mess mentre magari il resto della lega e la stessa meloni stanno facendo melina per rinviare l'approvazione di questo di questo strumento e in tutto questo ragionamento che poi magari ci entreremo di più se vuoi dopo nelle dinamiche politiche che sono in atto però si sta sfuggendo e in questo secondo me ha ragione monti quanto quando parla di un spettacolo che un pochino offende l'intelligenza delle persone e cioè il nodo vero della questione politico è l'italia è nelle condizioni il governo italiano anzi più che l'italia è nelle condizioni di poter dire di no alla ratifica del mess e mi spiego meglio mi spiego meglio orientato noi abbiamo che giorgetti e anche l'uomo che con un decisionismo piuttosto raro ha di fatto cassato il superbonus 110 per cento argomentazione è che le finanze pubbliche non lo reggevano l'argomentazione che era pieno di truffe attraverso quello strumento sta di fatto che viene cancellato in maniera molto rapida uno strumento che che anch'io non amo e personalmente io sono contro i bonus e i sussidi però in una in uno scenario in un contesto nel quale i bonus e sussidi si sprecano quello con tutti i suoi difetti stava dando una forte spinta c'è il pic il pil positivo che abbiamo avuto dopo la cosiddetta pandemia è dovuto principalmente al superbonus che ha messo in piedi un meccanismo attorno all'immobiliare che specialmente in italia è il fulcro di qualsiasi crescita economica notevole questo viene cancellato e in questo giorgetti svolge una funzione primaria oggi di nuovo giorgetti con attraverso un parere del suo capo di gabinetto di fatto dice che il mess non è poi questa grande iattura che tutto sommato addirittura il mess fa bene ai btp perché dice il parere di varone mi pare che si chiami il capo di gabinetto che ha fatto il parere che è andato in commissione esteri che quello che poi ha fatto da detonatore dalla vicenda politica e dice il mess se è ratificato in qualche modo con su di consoliderebbe la garanzia la credibilità dell'italia nei mercati finanziari quindi darebbe maggiore affidabilità al debito che l'italia produce in particolare attraverso i btp io lo leggo in filibra in filigrana questo messaggio che non è sbagliato effettivamente per come funzionano i mercati effettivamente dal punto di vista del creditore una ratifica del meccanismo europeo di stabilità darebbe maggiore affidabilità ai conti pubblici ai debito pubblico questo ci dice che la crisi bancaria tutt'altro che passata e ci dice che c'è un problema comunque nella nella sostenibilità del debito pubblico italiano insomma queste parole fanno un pochino rievocare il 2011 quando ad un certo punto un governo eletto di centrodestra deja vu dovuto essere si è deciso di sostituirlo sprombattuto con un governo con un bel governo tecnico per sé tutto il punto da monti che quello che tu citavi a apertura della nostra intervista nostra trasmissione ora noi abbiamo che il 28 giugno cioè due giorni prima della possibile data 30 giugno di dibattito parlamentare sul mess cioè sulla mozione che è stata approvata ieri in commissione esteri con la ventino del centrodestra quindi la mozione presentata dal pd quella andrà in discussione in parlamento 30 di giugno salvo rinvii che sono molto probabili e che conseguentemente noi abbiamo che i due giorni prima dicevo vanno in scadenza mezzo trilione di euro di titoli pubblici che sono quelli diciamo che dovevano aiutare l'italia per la pandemia in particolare si tratta di adesso ve lo dico con con precisione se lo ritrovo di prestiti pandemici tlt r o è la sigla da restituire la bce parliamo di mezzo trilione due giorni prima noi abbiamo un emissione ormai di debito pubblico che in questo momento è pari a 400 miliardi di euro e voi capite che è un paese che è messo in questo modo e che tra l'altro sempre il 30 di giugno si sblocca ci dovrebbe sbloccare il blocco dei rimborsi di euro vita questo tema non abbiamo mai toccato ma euro vita è questa l'abbiamo toccato più al vaso di pandora con con i nostri analisti finanziari l'abbiamo però i riscatti quindi dei sottoscrittori delle pollizze euro vita sono stati bloccati perché questa compagnia è in gravi difficoltà si sta studiando attraverso il coinvolgimento delle più importanti compagnie assicurative italiane la possibilità di un salvataggio e quindi di tenere indenni e sottoscrittori delle pollizze ancora questo accordo non c'è sa di fatto che il 30 di giugno dovrebbe sbloccarsi il blocco dei riscatti quindi noi abbiamo oggi un numero noi indifferenti di italiani che vorrebbero riscattare le loro pollizze non lo possono fare questo è il quadro nel quale ci muoviamo insomma entro il mese di giugno ecco allora di fronte a tutto questo il balletto sulla ratifica o meno del mess ha senso o no cosa voglio dire se quando dico senso no voglio dire l'italia avrebbe la sovranità senza un contraccolpo finanziario letale almeno letale per il governo ma con contraccolpi notevoli anche per i cittadini lo ha questa possibilità di non ratificare il mess o quello che davide tra l'altro è l'unico paese ad oggi della dell'eurozona che non ha ratificato il mess e bene anche ricordarlo questo no è l'unico paese e lo fa ricordiamo anche questo perché politicamente per partiti come la lega come fratelli d'italia che sono almeno dichiaratamente sovranisti e in passato erano in particolare la lega fortemente euroscettici il l'accesso al mess da il via a una serie di condizionalità molto molto forti sulle scelte e sui conti pubblici del paese che accede al meccanismo europeo di stabilità e quindi l'approvazione o la ratifica anzi o no del mess è un punto politico non secondario per questo governo che fino a questo momento ha tenuto il punto la stessa giorgia meloni nel partecipare pochissime settimane fa all'iniziativa nella masseria di bruno vespa in puglia aveva ribadito che noti questo governo non aveva intenzione anzi ricordiamo anche che a fino a fine 2022 il parlamento la maggioranza di centrodestra ha approvato una mozione che impegna il governo a non approvare la ratifica del mess quindi è un punto politico non da poco se questo punto politico lo si volesse tenere e se davvero l'italia fosse nelle condizioni di dire no la ratifica del mess come minimo bisognerebbe chiedere conto al capo di gabinetto che ha fatto quel parere perché si dice sì è un parere tecnico ma abbiamo visto che questo parere tecnico ha scatenato una tempesta politica allora in un governo veramente sovrano io penso che forse al capo di gabinetto bisognerebbe dirgli lasciare il suo ruolo e invece questo non avviene questo non avviene giorgetti dice di essere anche lui politicamente contrario ma sta dicendo in qualche misura se siamo nelle condizioni di poter dire di no questa cosa insomma sta di fatto che questa vicenda rischia da un lato di certificare i vincoli esterni che sono pesantemente sull'italia no e quindi quando diciamo c'è un vincolo esterno quando diciamo l'italia non è sovrana vuol dire questo cioè vuol dire il paese ha letto un governo che politicamente è contrario al meccanismo europeo di stabilità ma questo governo non è nelle condizioni di non ratificarlo quindi vuol dire che la sovranità politica di questo governo non c'è su un punto che il governo stesso ha ritenuto qualificante quindi è questo il punto di rimente cioè il significato politico della della no del non ratificarlo perché dici è un'implicita ammissione la prova del nove che il governo non è sovrano in pratica secondo me è così e allora come come se ne esce da una cosa di questo genere al netto dello spettacolo indecoroso di cui faceva riferimento monti se un governo volesse davvero fare una battaglia rischiando l'osso del collo ovviamente politicamente parlando dovrebbe e volesse davvero riacquisire una sovranità nazionale dovrebbe rivolgersi al paese cioè se io fossi il presidente del consiglio dei ministri in questo momento e volessi giocarmi la mia carriera su questo perché davvero voglio servire gli interessi nazionali io mi rivolgerei al paese a reti unificate e direi e direi la verità direi signori io la penso così su questa questione del mess e su altre questioni che si vedono sottomessi a dicta che vengono da centri di influenza esterni al paese e direi se voi volete seguirmi su questa strada sappiate che io terrò il punto su questo sappiate però che ci saranno delle conseguenze ad esempio che si potrebbero scatenare tempeste finanziarie tali che qualcuno dirà ci vuole un governo tecnico perché questo governo non è affidato insomma io parlerei un linguaggio di verità allora senti cioè praticamente tu davide vorresti pretenderesti fra virgolette che la meloni facesse la statista insomma sì piacerebbe piacerebbe che avesse un coraggio che in questo paese ormai sorrido dai però questa è cioè noi siamo sì no no chiarissimo il ragionamento non fa una piega e se è vero quello che sta di che dice davanti alle telecamere la meloni di conseguenza per coerenza dovrebbe fare effettivamente dovrebbe essere questo se lei la pensa così perché se lei pensa invece che stare dentro l'unione europea sia un bene per l'italia bene una posizione politica ce lo dica a parati fichi il mess e stia dentro un certo percorso se invece lei pensa come me che invece la sta dentro l'unione europea sia un cappio per l'interesse nazionale allora questa è l'unica strada cioè chiedere al paese al popolo italiano un'alleanza un'alleanza per dire ci state a provare a fare questo percorso sappiate che se lo vogliamo fare queste saranno le reazioni sul piano internazionale diciamo che invece la meloni come anche come anche la lega no invece si parla dietro alla a una specie di euro scetticismo che quindi non gli non li obbliga a prendere nessuna posizione euro scettico vuol dire vuol dire tutto e quindi non vuol dire non vuol dire niente no di fatto poi senti con volevo sentire cosa pensi poi delle dichiarazioni di di salvini in questi giorni che prima dice sintonia con il ministro dell'economia quindi già carlo giorgetti e poi non ritengo ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri ea soggetti stranieri cos'è anche qui la equilibrismo sembrerebbe di sì perché io sono convinto che alla fine la ratifica del messi si arriverà cioè si cercherà di prendere un po di tempo probabilmente non sarà il 30 giugno la deadline probabilmente magari si faranno delle audizioni in commissione per buttare la palla un po più la magari arrivare a dopo l'estate però do un altro dato che riportava questa mattina la stampa allora e non ratificare il mess e come ricordati tu l'italia l'ultimo paese a dover fare questa ratifica l'altro negli altri hanno già ratificato significa che il fondo cioè che eventuali crisi bancarie di banche europee anche sistemiche in questo momento andrebbero affrontate con il solo fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie che è dotato di 80 miliardi di euro questa dotazione di 80 miliardi di euro non è neanche lontanamente sufficiente a affrontare un eventuale crisi importante del sistema bancario europeo il mess lo sblocco del mess significherebbe portare almeno altri 68 miliardi dentro questa operazione allora per quello che io penso che alla fine magari in autunno ma questa operazione di artifica del mess quando quando la pubblica opinione si sarà abituata e sarà insieme anche no è una questione proprio psicologica la tirano lunga per una questione di farlo accettare per sfinimento agli italiani di come tanto voglio dire no quando si approva non si vede niente no di negativo no non ci sono cose negative no in valore dire va bene dai la pubblica opinione l'importante avere il via libera diciamo o il silenzio assenso della pubblica opinione ti sembra questa che pensi anche alla fine il parere del capo di gabinetto del ministero dell'economia tra l'altro uomo di fiducia di giorgetti è un sasso lanciato nello stagno e se vuole se vogliamo usare questo termine un aprire un po una finestra di overton quindi in qualche modo dire tutto sommato la ratifica non ci cambierebbe il mondo anzi avrebbe anche qualche effetto positivo e dire come dice anche ripeto anche stamattina il presidente del friuli venezia giulia fedriga leghista dice ratificare il mess non significa che poi ci accederemo è sempre quello un po il gioco sì ma ratifichiamolo tanto poi non non siamo mica obbligati no beh insomma le circostanze possono renderlo inevitabile dopo non il rischio esatto nel momento che lo strumento c'è e dal momento che comunque anche volendo riconoscere la buona fede a questo governo questo governo non è eterno lo strumento l'ha ratificato poi o tu o qualcun altro può accedervi quindi io ritengo che sia proprio così come dicevi tu al di là di un euro scetticismo di facciata in maniera progressiva si arriva a risultati inevitabili bruxelles ha detto che sta osservando con attenzione quello che sta avvenendo e ha detto sia la meloni che voleva provare a fare una sorta di scambio fra ratifica del mess e allentamento dei vincoli del patto di stabilità che questa cosa non c'è che per loro c'è l'approvazione la ratifica o basta o niente altro ecco noi io l'ho riportato anche il mio ultimo libro l'economia delle emergenze noi abbiamo una testimonianza relativa 2011 del di massimo caravaglia che un leghista di primo piano fatto il ministro sia nel governo conte 2 che nel governo draghi quindi mani in tempi molto recenti e che all'epoca dei fatti in 2011 era nella commissione bilancio non ricordo in questo momento sera presidente o vicepresidente e lui racconta che a un certo punto ispettori della bce car non si erano confrontati come si fa periodicamente con la commissione bilancio dicono voi voterete che ancora c'era il governo berlusconi e voi leghisti voterete il nuovo governo monti dice ma ancora c'è il governo berlusconi nella pienezza dei suoi poteri che racconta che questi gli dicono no non avete capito se non votate il governo monti noi non compreremo più di debito pubblico cioè noi rendiamoci conto che in tutti questi anni lo spread che comunque non è mai andato di fatto in doppia cifra ma sempre in tre cifre è stato attento sotto contro perché la bce ha comprato tutto il comprabile dei titoli del debito pubblico italiano quindi se smette di farlo dall'oggi al domani vi rendete conto il problema che c'è per quello dico in qualche misura anche se la vediamo in ottiche diverse a ragione monti quando parla di uno spettacolo indecente che voglio dire alla fine lo proverete quindi o ci dite lo proviamo perché giusto provarlo ci spiegate il perché oppure fatte quell'altra strada che vi ho detto prima che appunto sa di fantascienza politica quella che io prospettavo voglio aggiungere un'ultima cosa sul governo più generale questa vicenda questo tempesta che si sta scatenando che si è scatenata attorno a questa vicenda del mess con addirittura la maggioranza che fa la ventino e non va in commissione per noi cobrano sin cattura perché questo è stato no perché se tu andavi in commissione tu maggioranza tu governo tu avevi leghisti che avrebbero votato no alla mozione presentata dal pd e questo no sarebbe stato poi molto problematico per il dopo se tu poi effettivamente la la ratifica la vuoi fare un no certificato in commissione di almeno un partito di maggioranza avrebbe reso tutto più complicato quindi non vanno non si presentano in commissione allora però adesso io capisco la tattica capisco tutto però un governo in carica che non va in commissione perché in difficoltà su su un provvedimento ci dice cosa che questi sembrerebbero essere i primi effetti della gestione del centrodestra post berlusconi cioè i due chiamiamoli ragazzi per modo di dire meloni salvini sono in grado di gestire queste partite così complesse con implicazioni internazionali così pesanti senza berlusconi tra l'altro una proprio una uscita di questa mattina in un confronto la meloni alla fine in un confronto sembrerebbe piuttosto aspro con con salvini ha detto guarda che ti porto al voto cosa sono queste come come la leggi tu davide questa cosa sono schermaglia favori telecamera o sono cose che si dicono anche nella mia vita politica nelle amministrazioni locali di cui fatto parte succedeva che il sindaco il presidente della provincia della regione di fronte a situazioni che si andavano incancrenendo minacciava il voto quindi da un lato ci sta però dall'altro conferma quello che dicevo prima cioè i funerali berlusconi sono stati fatti una settimana fa se questa è la situazione del centrodestra e del governo dopo nel post berlusconi dopo appena una settimana ricordiamo anche l'incidente sul decreto lavoro in commissione dove sono arrivati in ritardo due parlamentari punto di forza italia il decreto lavoro è un decreto importante per questo governo e non è passato per questa ragione sono sì incidenti però ci dicono ci fanno interrogare sulla capacità di gestione politica delle complessità da parte dei leader del centrodestra orfani di berlusconi questo è un tempo questo è la questa fase qua che si apre diciamo che abbastanza un'incognita no perché manca il pater familias chiamiamolo così quello che teneva tutti uniti pur con un partito molto ridotto a livello di numerico però che col suo carisma col suo potere col suo carisma teneva un po tutti uniti no che che prospettive vedi tu per il centrodestra adesso che non che non che non c'è più berlusconi appunto è un banco di prova notevole perché è la prima volta in 30 anni no che succede questo è vero che negli ultimi anni diciamo la forza elettorale di berlusconi era forzata fortemente ridimensionata però la sua forza non era solo quella elettorale era quella del denaro era quella della mediatica perché lui aveva delle reti televisive che potevano anche fare la fortuna la sfortuna di un leader ed era la forza comunque di una persona capace di mediazioni politiche anche a livello internazionale quindi si apre un territorio sconosciuto i primi i primi banchi di prova quindi questo del mess e l'altro del decreto lavoro in commissione non fanno insomma pensare in questo in questa fase che salvini e berlone siano in grado di colmare il vuoto politico e di potere che copriva silvio berlusconi quindi vediamo perché il financial times non più di due settimane fa ha dedicato un paio di articoli al caso italia e alla possibilità che in italia ci possa essere un fallimento del governo in carica e che possa arrivare un governo tecnico quindi la dai come possibile sì nuovamente un governo tecnico è possibile è possibile in questo fino a questo momento abbiamo detto anche in un'altra puntata la meloni si è mossa con sagaccia questo bisogna riconoscerlo però adesso che siamo arrivati alla prova del 9 adesso che siamo arrivati con un nodo come quello del mess che è dirimente nello scacchiere del potere europeo e cominciamo ad avvertire qualche scricchiolio la situazione economica del debito pubblico italiano non la storia di peter beck ve l'ho detta poco fa quindi se lo scenario questo e se il governo non dovesse riuscire a tenere una linea che sia considerata accettabile a bruxelles al scenario del governo tecnico viste le fibrillazioni di queste ultime due settimane è possibile è possibile e seguiremo il tema con attenzione perché il dibattito entrerà dal b nel vivo proprio nel corso della settimana prossima noi tra l'altro lo anticipiamo già a voi amici ascoltatori ritorneremo sul tema proprio credo venerdì prossimo assieme con con te davide assieme anche a fabio sanzi amade che ha studiato conosce approfonditamente le tutte le tematiche del del messa e anche del patto di stabilità quindi sarà un'occasione proprio per capire anche un po più nei dettagli capire anche la razio di tutto ciò che ci sta alla base anche inconfessabile diciamo sia del messa che del patto di stabilità senti questi ultimi minuti vorrei dedicarli a un tema che in questo momento qua è fondamentale io ci tengo particolarmente ed è il referendum contro l'invio delle armi in ucraina anche in questo caso tra l'altro anticipo vi anticipo già che la settimana prossima avremo qui ospite carlo freccero che uno dei promotori assieme a ugo mattei e enzo pennetta del referendum ripudia la guerra ugo mattei enzo pennetta che avevamo già intervistato alcune alcune settimane fa è un referendum che è totalmente oscurato dai media ma volevo sentire il tuo punto di vista riguardo in particolare l'atteggiamento del movimento cinque stelle no perché è il partito diciamo che a parole si è assolutamente ha preso le distanze da tutti gli altri che dice noi siamo contrari a questa guerra siamo contrari l'invio delle armi eppure questo questo referendum sta facendo la stessa cosa che ne sta facendo la rai le reti pubbliche no tanto che nel fine settimana ci sarà anche una dimostrazione una manifestazione sotto la sede della rai a roma la sede principale di viale mazzini no ecco come si spiega secondo te perché a vederlo dall'esterno incomprensibile è un partito che potrebbe veramente far la differenza no se si muovesse nella raccolta delle firme ecco non ha proferito parola conte giuseppe conte beppe grillo silenzio assoluto quali sono le motivazioni perché evidentemente c'è qualche motivazione non esiste questa questa diciamo atteggiamento che è contrario a quello che dicono no mi vengono due considerazioni da fare due possibili risposte la prima è quella anche più banale che cioè avendo diciamo essendo promosso e appoggiato il referendum da soggetti politici diversi da si da intellettuali da persone indipendenti di azioni ma anche da forze politiche penso quella di sottoscano e rizzo che stanno dando un forte appoggio al questo referendum allora il movimento 5 stelle non vuole contribuire alla riuscita al successo di un'iniziativa che è ascrivibile ad altri ambienti e culturali e politici seconda in questo senso dare legittimità e dare visibilità a questi altri ambienti di sé il partito di francesco toscano il partito di francesco di rizzo no e alle varie sottostazioni perché vorrebbe dire riconoscerle e di conseguenza ribadisco dargli una visibilità e fargli pubblicità in pratica no se questo nella nella logica cinica della politica sicuramente è un argomento che che valido scusami davide tanto cinica stiamo parlando di un referendum stiamo parlando dei di una guerra di armi quindi qui il cinismo è di consapevolezza quindi è altissimo se così è sì se così fosse ma mi sembra una spiegazione politica plausibile la seconda spiegazione che riesco a darmi questa perché non l'hanno fatto loro questa iniziativa perché non è stato un passaggio ancora più a monte sì perché allora se tu sei di fatto l'unica forza politica parlamentare che schierata in maniera ufficialmente netta contro l'invio di armi in ucraina e riscontri nel paese una un consenso ampio su questa posizione che potrebbe addirittura essere maggioritario da quello dei sondaggi che abbiamo letto forse la maggioranza degli italiani è contraria a questo coinvolgimento dell'italia nella vicenda russo ucraina però se tu sei una forza politica libera e la tua posizione è limpida su questo piano perché non cavalcare nell'opinione pubblica questa cosa perché non anche qui chiedere un'alleanza agli italiani c'è dire noi riteniamo che ci sia un rischio di coinvolgimento non solo diciamo di coinvolgimento che è già in atto e di costi finanziari per l'italia per inviare queste armi molto elevati che vengono sottratti ad altri investimenti che potrebbero essere fatti nell'interesse del paese ma addirittura questo continuo invio di armi prefigura una possibile escalation e un possibile coinvolgimento diretto dell'italia nel conflitto quindi tu hai ottime argomentazioni per chiedere al paese un'alleanza nel parlamento la tua posizione è minoritaria allora coinvolge il paese chiedi che si faccia come hanno fatto giustamente secondo me i promotori del referendum che si esprima il popolo su questo non lo fai non l'hai fatto e allora vuoi fare solo una battaglia parlamentare che stai già in partenza che è perdente allora che roda ti lavi la coscienza perché l'hai la coscienza esatto e quindi quindi io vedo queste due possibili spiegazioni uno non vuole legittimare gli altri due però dai l'impressione che la tua battaglia sia solo di facciata e quindi lo fanno solo di facciata per quale motivo allora è perché anche loro sono dentro dentro vincoli internazionali no insomma questo vuol dire andare contro la nato parliamoci chiaro se è in grado di andare seriamente contro la nato io non lo so vediamo io sono però contento di questa iniziativa referendaria che va sostenuta perché è l'unico modo l'unico modo di diciamo tradurre il dissenso che nel paese c'è e che è molto probabilmente maggioritario in un'azione politica è l'unico modo si ricordo il sito del referendum referendum ripudia la guerra punto it è possibile oltre ai banchetti che ci sono nei vari comuni è possibile comunque per tutti andare a votare contro l'invio delle le armi la raccolta delle firme nel proprio comune di residenza e riprenderemo la settimana prossima questo tema siamo in chiusura ringrazio molto davide rossi per sempre sottili disamine politiche oggi sulla messa noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo grazie 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 davide rossi grazie a tutti voi amici ascoltatori